Ed è già giunto il momento del nostro primo collegamento perché in questo sabato 20 aprile come dicevamo sono tante le iniziative che si svolgeranno un po' in tutta Italia. Noi con Giovanni Impagliazzo dell'Assessorato Politiche e Sociali Roma Capitale ritorniamo appunto a Roma perché stasera ci sarà un evento che possiamo definire davvero straordinario. Buongiorno dottor Impagliazzo. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ben trovato, grazie per la sua disponibilità. Allora andiamo a raccontare al nostro pubblico che cosa succederà stanotte a Roma con quella che appunto è stata definita intitolata la notte della solidarietà. Buongiorno, sì questa sera a Roma per la prima volta in maniera così scientificamente certa e attenta 2.000 volontari percorreranno tutte le strade di Roma per censire i senza tetto che dormono in strada. Non era mai successo in Italia e iniziamo da Roma. Un accordo che ha firmato il Comune di Roma con l'Istat permetterà di censire tutte le persone che purtroppo ancora dormono per strada nella nostra città. E' un'iniziativa molto importante perché appunto in una sola notte scatterà una fotografia precisa di quella che è la situazione dei senza tetto oggi nella capitale. Una metropoli gigantesca, quindi c'è un'organizzazione altrettanto importante alle spalle. Intanto ecco stiamo vedendo alcune immagini che un po' ci illustrano quello che succederà stasera. C'è un esercito di volontari? Sì, abbiamo diviso la città in circa 400 micro aree. Queste 400 micro aree hanno una lunghezza massimo di 2 chilometri e questi 2.000 volontari divisi in circa 400 squadre, sono appunto 3-4 volontari per squadra, percorreranno l'intera zona loro assegnata. E potranno grazie a un'app e a un sistema di rilevazione che è stato messo in piedi dalla Banca Mondiale, trasmettere in diretta appunto il censimento dei senza tetto. Quindi potranno contare e quindi segnalare attraverso l'app la presenza di un senza tetto, ma anche se questo desidera intervistarlo. E quindi capire le motivazioni per cui lo hanno portato a vivere in strada, da quanto tempo, il titolo di studio, la nazionalità, oltre chiaramente ai dati più sintetici, il sesso, l'età. Questo ci permetterà poi di mettere in piedi, in previsione del giubileo, un programma che possa offrire a tutte queste persone che sono finite in strada la possibilità di trovare un riparo notturno. Noi dobbiamo sapere esattamente quanti sono e per questo abbiamo fatto questo accordo con l'Istat e abbiamo lavorato circa due anni per preparare questa notte della solidarietà. Dovete sapere poi che domani, il 21 aprile, è il Natale di Roma e quindi sono più di 2700 anni che questa città è stata fondata e noi proprio a cavallo questa notte tra il 20 e il 21 aprile vogliamo provare a dare un volto, un nome, a capire appunto le motivazioni per cui queste persone sono ancora costrette a vivere per strada e dal 21 aprile in poi organizzare qualcosa per aiutarli a lasciare la strada. Noi facciamo subito tanti cari auguri a Roma Capitale, sono tanti risvolti, le sfumature di questa iniziativa che la rendono unica. Mi piace pensare per esempio che l'altro lato della medaglia è quello che consentirà a questi volontari di toccare con mano realtà che pure vediamo tutti i giorni ma che ci passano accanto in un istante a cui spesso per i motivi più vari siamo un po' indifferenti. Quindi sarà un'esperienza umana molto rilevante anche per tanti cittadini e cittadine romane che appunto aiuteranno a fare questa rilevazione. Ma lei ha perfettamente ragione. Guardi, anch'io, il sindaco prima di me, ma anch'io sono rimasto veramente sorpreso dal numero importante di persone che hanno aderito a questa iniziativa e anche dal numero importante di studenti. Quindi abbiamo quasi tutte le università romane con studenti appunto che hanno deciso volontariamente di iscriversi come rilevatori in questa notte del censimento dei senza tetto. È una bella notizia perché chiaramente per loro sarà la prima volta che avranno modo di parlare, di incontrare di notte un senzatetto e offrendogli appunto la possibilità in futuro appunto di speriamo di dargli la possibilità di trovare un alloggio per tutti. È vero che si tratta di un problema rilevante, molto importante, però ci piace pensare che ovviamente nessun problema può essere risolto se non ci si mette a lavorarci su e lo sforzo che sta facendo a Roma Capitale con il supporto di Istat è senza dubbio molto molto importante, molto bello anche in vista del giubileo come dicevate voi. C'è anche un sito molto bello che sta accompagnando l'iniziativa, mi pare che la regia tra una parola e l'altra ce lo avesse fatto già vedere, per cui chiunque volesse approfondire la conoscenza del progetto, ecco lo sto vedendo alle mie spalle nel maxischermo, può collegarsi al sito della Notte della Solidarietà. Dottor Impagliazzo, posso chiedere quando e come poi saranno diffusi i dati che rileverete questa notte? Sì, io penso che ci vorranno almeno 30 giorni perché chiaramente noi andremo anche nei luoghi più complicati quindi raggiungeremo tutte le banchine del Tevere per chi conosce Roma sa che sono dei luoghi dove la presenza di senza tetto è particolarmente alta. Andremo anche nei giardini e nei parchi di pertinenza degli ospedali, spesso i senza tetto trovano rifugio là perché si sentono più sicuri vicini ai pronto soccorso e quindi ci vorrà un po' di tempo per elaborare tutti i dati. Io spero che nel giro di 30 giorni di potervi dare qualche notizia più certa sul numero esatto dei senza tetto che vivono nella capitale d'Italia. Abbiamo già detto che è un lavoro molto importante per cui siamo disposti ad aspettare anche qualche giorno in più perfettamente consapevoli che è lo sforzo che metterete in atto stanotte tra le 19 e le 24 circa e poi tutto quello che seguirà per elaborare i dati è uno sforzo davvero notevole e di cui vi siamo molto grati. Dunque ci risentiremo, ci risentiremo tra qualche tempo. Io ne approfitto per farvi da parte di tutta la redazione di Padre Pio TV, gli auguri di un buon lavoro, di una buonissima notte della solidarietà e non le ruberei altro tempo. Immagino che ci saranno ancora tante cose da fare prima di dare il via all'iniziativa. Grazie a voi e allora spero di rivedervi presto e buona giornata a tutti.